La festa di compleanno di Caio Benvenuti in questo ebook bilingue bimodale. Questo ebook è un adattamento del libro Kevin's Birthday Party, scritto e illustrato da Matthew Ryan, per rubbishbooks.com Ciao, Patrizio! Caspita, che bello quel cappello, Patrizio! Perché porti il tuo cappello fantastico oggi? È oggi il compleanno di Caio? Ci sarà una festa! Sei pronto per la festa, Patrizio? Sì, indossi il tuo cappello da festa. Indossi le tue scarpe da festa. E indossi i tuoi pantaloni da festa. E hai un regalo molto speciale per Caio? O vuoi che indoviniamo quello che hai? Cosa pensi che Patrizio regalerà a Caio? Forse Patrizio gli regalerà un elefante? No, impossibile! un grande elefante non ci sta nella camera di Caio forse... un tagliaerba superveloce No, impossibile! No, impossibile! Caio non ha un prato da tagliare forse... dei baffi nuovi? Ma che sciocco! Oh no, Patrizio! Oh no, Patrizio! Guarda l'ora! Dobbiamo andare alla festa! Andiamo! Ciao, Caio! Ti diverti alla festa? E qual è la parte migliore della tua festa, Caio? Aver ricevuto tanti regali super? Qual è stato il tuo regalo preferito, Caio? Quello di Patrizio era il tuo preferito? Allora, cosa ti ha regalato, Patrizio? Era un disegno di Caio, Patrizio e Arturo Che regalo meraviglioso, Patrizio! Buon compleanno, Caio! Questo e-book è segnato da Gabriele Caia docente di LIS del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università di Venezia Ca' Foscari È stato prodotto da Riley Collins ex-alunno Lily Tobias e Julian Turner studenti di Swarthmore College Fa parte del progetto RISE eBooks guidato dal professor Jean Myros di Golden State University e dalla professoressa Donna Jo Napoli di Swarthmore College tradotto da Donna Jo Napoli e Noemi Piva studentessa di lingue all'Università Ca' Foscari di Venezia che ha inoltre prestato la sua voce che ha inoltre che ha inoltre e che ha inoltre Grazie a tutti. Grazie a tutti.